Un primo passo perché siamo riusciti in poco tempo a dare al territorio dei riconoscimenti. L'abbiamo iniziato a fare con la possibilità di fare il presidio Svoswood sul Limone Verdello. Oggi lo presentiamo stasera ufficialmente alla città, la comunità dei pianificatori dello Sfinzione Bianco di Bagheria. Stiamo cercando di fare anche alla comunità sul Limone Verdello, prospettiva chiaramente al presidio. Abbiamo già lanciato l'inserimento nell'arca del gusto del nostro estratto di pomodoro e cercheremo a questo punto di valorizzare prossimamente l'acciuga di aspra. Per cui tutto un divenire di iniziative che permetterà a Bagheria di avere importanti riconoscimenti nel campo del gusto. È chiaro che innovazione è un termine che a noi piace utilizzare ma allo stesso tempo dobbiamo affiancare tradizione e sostenibilità. Con la comunità sullo food dei pianificatori dello Sfinzione Bianco di Bagheria accederemo in breve tempo intanto a fare un disciplinare per tutelare e soprattutto proteggere lo Sfinzione Bianco. Ma soprattutto utilizzare i prodotti come ad esempio la Tuma di qualità, la ricotta di qualità del nostro territorio, chilometro zero, grandi siciliani, tutta una serie di prodotti che non solo migliorano le qualità del nostro Sfinzione ma soprattutto certificano al pubblico e ai consumatori che questo prodotto è veramente d'eccellenza. Il riconoscimento slow food che tra le altre cose ci attenziona da un po' di tempo è frutto innanzitutto di un percorso di legalità, di trasparenza, di qualità e soprattutto di tracciabilità dei prodotti. Perché slow food ha delle linee di condotta abbastanza rigide e quindi noi dobbiamo essere fieri innanzitutto del lavoro che si è fatto insieme con il pianificatore e per questo riconoscimento. Anche perché il riconoscimento dei prodotti tipici come nella strategia che già stiamo implementando da circa tre anni diventa un tassello importante in questa strategia di market territoriale e turistico. Noi siamo molto entusiasti di questa situazione che si è sviluppata col tempo perché lo Sfinzione e Bageria lo conoscono quasi tutti per una questione che è storia e Bageria lo Sfinzione. Però adesso noi puntiamo a farlo conoscere a più persone possibili in giro per fare il caso in tutto il mondo. Da parte nostra c'è la buona volontà di farlo conoscere, di farlo apprezzare, di valorizzarlo, di farlo conoscere insomma perché tutti debbano conoscere e saperne parlare dello Sfinzione tipico bagherese. Tutto l'anno c'è la richiesta di Sfinzione? Sì, tutto l'anno. Da gennaio a dicembre, ferragosto non ha più limiti. Né di produzione, diciamo le richieste sono tante per andare a modificare la richiesta dello Sfinzione, gli ingredienti originali. Però quello che va di linea di massima è sempre il tradizionale. Tuma, asciuga, cipolla e pan grattato con il formaggio sopra. Perché è un piatto completo, non ti chiede altro. Per il resto prodotti reperibili quasi tutto l'anno perché le conseguenze non ti manca la materia prima.